Si appresta a tornare in campo l'Orlandina Basket, reduce da sei sconfitte di fila. La squadra di coach Marco Sodini si prepara ad una complicata doppia trasferta. Si inizia domenica alle 16.30 contro Treviglio, per poi proseguire martedì 23 a Torino, con palla a due alle 12.30. Orari abbastanza insoliti, ma ormai questo campionato ci ha abituato alle cose più strane. Per coach Marco Sodini le sfide comunque vanno affrontate senza paura alcuna. Non c'è una cosa che non si possa fare, non c'è una partita che non si possa giocare. Non c'è una partita che non si possa giocare bene e vincere. Non c'è una cosa che non si possa immaginare e che poi non si possa riportare nella realtà. Non c'è uno spirito diverso da questo che noi possiamo avere. Andiamo a giocare a Treviglio, una partita difficile, importante, ma dobbiamo sapere che tutto quello che noi facciamo è niente in confronto a quello che la volontà può portare a fare. E questo è lo spirito con cui vogliamo affrontare quella partita. Perché se qualcuno è riuscito a portare suo figlio in braccio per 4 chilometri di nuoto, per 180 chilometri in bicicletta, per 42 chilometri e 195 metri a piedi, una partita di palacanestro la possiamo giocare bene.